Nella puntata di oggi scopriremo come trovare il vero amore, come liberarsi del fastidioso grasso superfluo, un metodo infallibile per prendere la patente. Sì, ti giuro, è la quindicesima volta che prova a prendere la patente. Eccola, è tornata adesso. Ora ci facciamo due risate. Allora, ti hanno fottuto ancora? Sì, in tre, ma almeno mi hanno dato la patente. Tutti! Io. Mi pare di intuire che stasera non hai tanta voglia, vero? Amore, non mi hai mai comprato dei fiori. E neanche sapevo che li vendessi. Quando lei dice qualcosa di buffo su di te. Quando tu dici qualcosa di buffo su di lei. Caro, stamattina ho comprato dei fantastici cerchi in lega. Ma sei fuori? Ma se non hai nemmeno la macchina. E con ciò, se è per quello, anche tu porti il reggiseno. Io che aspetto l'amore. Io quando qualcuno mi vuole. Ma guardalo quello che diceva che non è indispensabile avere il bidet. Urb sl torta in lega. Lo puo! Ro.... Lo puo! 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 Lo puoi! Lo puo!